La rugiada del mattino Il prato di Ingolside era costellato di angolini di luce dorata e di fresche e allettanti zone d'ombra. Rilla Blythe si stava dondolando sulla maca sotto il grande pino scozzese insieme a Gertrude Oliver, seduta sulle radici accanto a lei, e a Walter, sdraiato sull'erba e perso in un romanzo cavaleresco i cui eroi e bellissime eroine, morti e sepolti da secoli, rivivevano davanti ai suoi occhi. Rilla era la piccola della famiglia e viveva in un cronico stato di segreta indignazione perché nessuno pareva credere che fosse cresciuta. Stava per compiere 15 anni, anzi, poteva già dire di averli ed era alta quanto di e nan. Era anche graziosa, come diceva Susan. Aveva due grandi occhi sognanti color nocciola, la pelle candida punteggiata di lentigini dorate e le sopracciglia lievemente arcuate che rendevano il suo sguardo altero e curioso. Inducevano gli altri, in particolare i ragazzi, a ricambiarlo. I suoi capelli erano ondulati e color ruggine e sul suo labbro superiore si intravedeva un minuscolo incavo, come se una fatina buona vi avesse premuto il dito il giorno della sua nascita. Nemmeno le sue migliori amiche avrebbero potuto negare che fosse vanitosa e in effetti Rilla pensava di avere un bel viso, anche se non era del tutto contenta del proprio fisico. Desiderava moltissimo che sua madre le permettesse di indossare abiti lunghi. Da piccola ai vecchi tempi della Valle dell'Arcobaleno era stata una bambina cicciottella. Adesso invece era incredibilmente magra e Gemma e Shirley la prendevano in giro chiamandola Ragnetto. Riusciva però a non risultare goffa. C'era qualcosa nei suoi movimenti che faceva quasi pensare che danzasse invece di camminare. Era sempre stata molto coccolata, al punto da essere un po' viziata e, nell'opinione generale, Rilla Blythe era una ragazza dolce, anche se meno sveglia di Nan e Dee. La signorina Oliver, che quella sera sarebbe tornata a casa per le vacanze, era stata in affitto a Ingolside per tutto l'anno. I Blythe avevano accettato soprattutto per far piacere a Rilla, che adorava la sua insegnante, e si era dichiarata disposta a dividere la stanza con lei, visto che non ce n'era un'altra libera. Gertrude Oliver aveva 28 anni e una vita difficile alle spalle. Il suo aspetto in genere rimaneva impresso, due occhi marroni un po' tristi e lievemente amandorla, una bocca ben fatta e dall'aria un po' ironica e una folta a chioma scura sulla testa. Non poteva definirsi bella, ma il suo volto aveva qualcosa di affascinante e misterioso, soprattutto per Rilla, che era tratta persino dai suoi occasionali momenti di malumore e cinismo. Ma questo succedeva soltanto quando la signorina Oliver era stanca, altrimenti era una compagnia sempre interessante, al punto che i ragazzi di Ingolside spesso dimenticavano che era più grande di loro. Walter e Rilla erano i suoi preferiti e lei era diventata la confidente dei desideri segreti e delle aspirazioni di entrambi. Sapeva che Rilla desiderava uscire, ovvero andare alle feste, come facevano Nani di indossare begli abiti da sera e, perché no, avere dei corteggiatori, al plurale, come se non bastasse. Quanto a Walter, la signorina Oliver sapeva che aveva scritto una serie di sonetti dedicati a Rosamunda, ovvero Faith Meredith, e che voleva diventare professore di letteratura inglese in qualche importante università. Era al corrente del suo appassionato amore per la bellezza e del suo attrettanto appassionato odio per tutto ciò che era brutto. Conosceva i suoi punti di forza e le sue debolezze. Walter era sempre stato il più bello dei ragazzi di Ingolside e alla signorina Oliver piaceva molto ammirarlo, pensando che avrebbe proprio desiderato avere un figlio così. Aveva i capelli neri e lucenti, splendidi occhi grigio scuro e lineamenti perfetti, ed era un vero poeta. I suoi sonetti erano davvero notevoli per un ragazzo di soli vent'anni. La signorina Oliver sapeva giudicare in maniera oggettiva e si era resa conto che Walter Blythe possedeva un autentico dono. Rilla amava Walter con tutto il suo cuore. Lui non la prendeva mai in giro come facevano Gem e Shirley e non la chiamava mai Ragnetto. Il soprannome che aveva coniato per lei era Rilla mia Rilla, un gioco di parole con il suo nome completo che era Marilla. L'avevano chiamata così in onore della zia Marilla di Green Gables, che però era morta prima che Rilla fosse abbastanza grande da conoscerla bene. Lei detestava quel nome così antiquato e sobrio e si chiedeva perché mai nessuno la chiamasse con il suo primo nome, ovvero Berta, invece di quello sciocco Rilla. Il soprannome di Walter in realtà non le dispiaceva, ma nessun altro aveva il permesso di chiamarla così, tranne la signorina Oliver ogni tanto, Rilla mia Rilla. Aveva un suono bellissimo quando era Walter a chiamarla con la sua voce così musicale. Le sembrava quasi lo scrosciare di un roscello argenteo. Rilla sarebbe morta per suo fratello Walter, o almeno così aveva detto alla signorina Oliver. Come ogni ragazzina di quindici anni, le piaceva esagerare e il suo più grande cruccio era il sospetto che lui si confidasse più condiche con lei. Pensa che sia troppo piccola per capire, si era sfogata una volta con la signorina Oliver, ma non è così e non direi mai niente a nessuno, neanche a lei, signorina Oliver. A lei dico tutti i miei segreti. Non potrei essere felice se le nascondessi qualcosa, ma non le rivelerei mai i suoi, e a lui dico tutto, le ho persino fatto leggere il mio diario. Mi fa soffrire tantissimo quando non mi dice qualcosa. Però mi fa leggere tutte le sue poesie e sono meravigliose, signorina Oliver. Spero proprio che un giorno per lui diventerò come Dorothy, la sorella di Wordsworth. E comunque le poesie di Wordsworth non sono belle come quelle di Walter e nemmeno quelle di Tennyson. Beh, non direi. Entrambi hanno scritto un bel po' di cose notevoli e aveva risposto secca la signorina Oliver. Poi, vedendo lo sguardo ferito di Rilla, si era frettata ad aggiungere «Ma sono convinta che anche Walter un giorno sarà un grande poeta e si confiderà di più con te man mano che cresci». L'anno scorso, quando era in ospedale con la febbre tifoidea, ho rischiato di impazzire, aveva singhiozzato Rilla con fare un po' drammatico. Non mi avevano detto quanto stava male. L'ho saputo solo dopo. Papà non voleva. Sono contenta di non averlo saputo. Non lo avrei sopportato. Già così piangevo tutte le notti. Però a volte, aveva concluso amaramente Rilla, ogni tanto lo faceva, per lo più per imitare la signorina Oliver, «A volte penso che Walter voglia più bene a lunedì che a me». Lunedì era il cane di Ingleside. Era stato chiamato così perché era arrivato un lunedì, in cui Walter stava leggendo Robinson Crusoe. A dire la verità, era il cane di Gemma, ma era molto affezionato anche a Walter. Proprio in quel momento era accanto a lui. Gli strofinava il muso su un braccio e scodinzolava felice ogni volta che Walter lo carezzava distratto. Lunedì non era né un colli, né un setter, né un mastino, né un terranova. Era semplicemente un cane. Così lo definiva Gemma. Un cane qualsiasi, come diceva la gente, meno sensibile. La sua migliore qualità non era certo l'aspetto. Il pelo giallastro era punteggiato di macchie scure, una delle quali piazzata su un occhio e aveva l'orecchia brandelli perché non era un granché nei duelli d'onore. Possedeva però un talismano. Sapeva che non tutti i cani erano belli, eloquenti o vitoriosi negli scontri, ma che tutti avevano la capacità di amare. Dentro il suo umile involucro batteva il cuore di cane più affezionato, leale e fedele del mondo. E dai suoi occhi marroni trapelava qualcosa che era davvero molto simile a un'anima, con buona pace dei teologi. A Ingleside lo adoravano tutti, persino Susan. Sebbene il suo affetto fosse messo a dura prova dall'incresciosa abitudine che lunedì aveva di infilarsi nella stanza degli ospiti per dormire sul letto. Quel particolare pomeriggio, Rilla non aveva troppe rimostranze da fare. Non è stato un giugno meraviglioso, chiese ammirando con occhi sognanti le sottili nuvole argente che fluttuavano sopra la valle dell'arcobaleno. Ci siamo divertiti così tanto e ha fatto sempre bel tempo, è stato tutto perfetto. A me non piace quando è così, disse la signorina Oliver con un sospiro. È di cattivo auspicio. La perfezione è un dono degli dèi, una compensazione per ciò che deve ancora venire. L'ho visto accadere così spesso che non mi piace quando la gente dice che è stato tutto perfetto. Detto questo, è stato un giugno delizioso. Certo, non è successo niente di particolarmente eccitante, disse Rilla, ma in tutto l'anno la giornata più eccitante a Glenn è stata quella in cui la vecchia signorina Mead è svenuta in chiesa. Mi piacerebbe se ogni tanto cadesse qualcosa di sensazionale. Attenta a quel che desideri. Gli eventi sensazionali possono anche essere molto amari. Che bella estate che passerete voi altri qui. Io invece me ne starò sola e triste a Lowbridge. Oh, ma verrà a trovarci spesso, vero? Sono sicura che quest'estate ci divertiremo da morire, anche se io come al solito verrò lasciata in disparte. Non è orribile quando tutti pensano che tu sia una ragazzina e invece non lo sei? Oh, avrai un sacco di tempo per essere un'adulta, Rilla. Goditi la giovinezza, se ne va così in fretta. I tuoi primi assaggi di vita vera arriveranno presto. Assaggi? Sì, io voglio mangiarmela la vita, esclamò Rilla ridendo. Voglio tutto, tutto quello che una ragazza può avere. Tra un mese compierò 15 anni e nessuno potrà più dirmi che sono piccola. Una volta ho sentito dire che gli anni tra i 15 e i 19 sono i migliori della vita di una ragazza. Voglio che i miei siano splendidi e pieni di divertimento. Ma non ha senso pensare a quello che farai, perché probabilmente le cose non andranno come ti aspetti. Beh, però pensarci è già divertente di per sé, disse Rilla. Tu pensi soltanto al divertimento, piccola scimmietta, disse la signorina Oliver in tono indulgente, mentre pensava che il mento di Rilla era davvero perfetto. Beh, a 15 anni è normale, ma non vuoi andare alla Queen's Academy quest'autunno? No, e neanche il prossimo. Non ci voglio andare e basta. Non mi importa niente di tutte quelle elogie, di tutti quegli ismi per cui nana e dì vanno matte. Cinque figli su sei che vanno all'università mi sembrano abbastanza. In ogni famiglia deve esserci almeno una stupida e sono ben disposta a esserlo io se in cambio posso essere carina, popolare e affascinante. Non ho la stoffa per fare quell'intelligente. Non ho nessun talento e non immagina quanto sia rassicurante. Nessuno si aspetta nulla da me e quindi nessuno mi tormenta perché faccia qualcosa. Però non posso nemmeno diventare una di quelle casalinghe che stanno sempre in cucina. Detesto cucire e spolverare e se Susa non è riuscita a insegnarmi a fare biscotti temo che nessuno potrà mai farlo. Papà dice che non lavoro e non filo, perciò devo essere un giglio del campo come quelli della Bibbia, concluse Rilla con un'altra risata. Sei troppo giovane per rinunciare agli studi, Rilla. Oh, la mamma ha detto che mi farà leggere molto il prossimo inverno, tanto per dare una rinfrescata alla sua laurea. Per fortuna leggere mi piace. Oh, non mi guardi con quell'aria di disapprovazione. Non potrei mai essere una persona sobria o seriosa. Per me è sempre tutto rosa, oppure di tutti i colori dell'arcobaleno. Tra un mese avrò quindici anni. L'anno prossimo sedici e l'anno dopo ancora diciassette. Che c'è di più bello al mondo? Tocca ferro, disse Gertrude Oliver, con uno sguardo un po' serio e un po' scherzoso. Tocca ferro, Rilla mia Rilla. Allegria al chiaro di luna. Rilla, che fin da piccola pareva ridere, persino quando dormiva sbadigliò, si stiracchiò e sorrise a Gertrude Oliver, che era arrivata dall'Hobridge la sera prima e si era lasciata convincere a restare per partecipare al ballo, che era stato organizzato al faro di Four Winds. Un nuovo giorno bussa alla finestra. Chissà cosa ci porterà. La signorina Oliver rabbrevidì per un istante. Non le capitava mai di salutare l'inizio di una giornata con l'entusiasmo di Rilla. Aveva abbastanza esperienza alle spalle da sapere che in un solo giorno potevano accadere cose terribili. Secondo me, la cosa più bella di ogni giornata è la sua imprevedibilità, proseguì Rilla. È bello svegliarsi in un bel mattino dorato come questo e chiedersi quale sorpresa ti si presenterà di fronte. Prima di alzarmi rimango sempre a fantasticare per una decina di minuti e immagino tutte le cose meravigliose che potrebbero accadermi da qui al tramonto. Oh, io spero proprio che accada qualcosa di inaspettato, disse Gertrude. Ovvero che arrivi la notizia che Germania e Francia hanno evitato la guerra. Oh, sì, 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 certo, disse Rilla distrattamente. Sarebbe terribile altrimenti, credo, ma per noi non cambierebbe poi molto, vero? La guerra deve essere una faccenda molto eccitante o almeno dicono che la guerra a Boerano sia stata, ma io ovviamente non posso ricordarlo. Secondo lei dovrei mettere il mio abito bianco? Oppure quello verde nuovo stasera, signorina Oliver? Quello verde è molto più carino, ma ho un po' paura a metterlo a una festa sulla spiaggia. Potrei rovinarlo. E le andrebbe di sistemarmi i capelli secondo la nuova moda? Nessuna delle ragazze di Glence ha ancora provato e di sicuro farà scalpore. Come hai convinto tua madre a farti andare alla festa? Oh, l'ha convinta Walter. Sapeva che mi si sarebbe spezzato il cuore se non fossi potuta andare. È la mia prima festa da grande, signorina Oliver. È una settimana che non ci dormo la notte. Questa mattina, quando ho visto il sole che splendeva, volevo mettermi a saltare di gioia. Sarebbe terribile se stanotte piovesse. Penso che rischierò e metterò l'abito verde. Voglio essere carina la mia prima festa. E poi almeno cinque centimetri più lungo di quello bianco. Metterò anche le scarpette argentate che mi ha regalato la signora Ford lo scorso Natale. Non ho ancora avuto occasione di provarle. Sono adorabili. Oh, signorina Oliver, spero proprio che qualcuno dei ragazzi mi chieda di ballare. Morirei di vergogna se nessuno lo facesse e dovessi restare a fare la tapezzeria tutta la sera. Purtroppo Carl e Jerry non possono ballare, visto che sono i figli del pastore. Altrimenti potrei contare su di loro per salvarmi da una disgrazia del genere. Oh, avrai un sacco di cavalieri. Verranno tutti i ragazzi dell'altro lato della baia. Saranno molti più loro delle ragazze. Come sono contenta di non essere la figlia del pastore, rise Rilla. La povera Faith è furiosa perché non può ballare stasera. A una invece non importa niente, ovviamente. Non le è mai interessato molto ballare. Qualcuno ha detto a Faith che chi non balla potrà starsene a chiacchierare in cucina e avresti dovuto vedere che faccia ha fatto. Ma lei e Gem se ne staranno seduti sugli scogli per la maggior parte della serata, immagino. Lo sa che andremo a piedi oltre Ruscello, che passa sotto la vecchia casa dei sogni, e da lì raggiungeremo il faro in barca? Non crede che sarà meraviglioso? A quindici anni anche io pensavo che tutte fosse meraviglioso, disse sarcastica la signorina Oliver. Comunque credo che sarà una bella festa, almeno per voi giovani. Io probabilmente mi annoierò perché nessuno dei ragazzi vorrà ballare con una vecchia zitella come me. Al massimo Gem e Walter mi concederanno un ballo per compassione. Insomma, non puoi certo aspettarti lo stesso entusiasmo da parte mia. Lei si è divertita la sua prima festa, signorina Oliver? No, è stato un momento terribile. Ero brutta e malvestita, e nessuno mi ha chiesto di ballare tranne un ragazzo che era ancora più brutto e malvestito di me. Me lo ha chiesto in maniera così goffa che lo detestai immediatamente e lui non ci riprovò più. La verità è che non mi sono goduta affatto la mia adolescenza, Rilla, ed è una cosa molto triste. Ecco perché vorrei che invece tu lo facessi e spero che ricorderai per sempre con piacere la tua prima festa. L'altra notte ho sognato che ero alla festa e a un certo punto mi accorgevo di essere in vestaglie e pantofole, sospirò Rilla. Mi sono svegliata e inorridita. A proposito di sogni, io ne ho fatto uno proprio strano, disse la signorina Oliver con voce a Center. Era uno di quei sogni così vividi che faccio ogni tanto, diversi da quelli confusi e annebbiati che si fanno di solito. Sono nitidi e sembrano quasi reali. E cosa ha sognato? Ero sui gradini della veranda qui a Ingolside e guardavo i campi tutti intorno a Glen. A un certo punto ho visto in lontananza un'onda argente e scintillante che avanzava. Si avvicinava sempre di più. In realtà erano tante piccole onde bianche, come quelle che a volte vanno a infrangersi sulla spiaggia, e stavano inghiottendo tutta Glen. A quel punto ho pensato, beh, non arriveranno fino a Ingolside. Però continuavano ad avvicinarsi, rapidissime, e prima che potessi spostarmi o chiamare aiuto, le ho viste lambirmi i piedi. E in un istante era sparito tutto. Dove prima c'era Glen, ora si vedeva solo una distesa d'acqua in tempesta. Ho provato ad allontanarmi e mi sono accorta che l'orlo del mio vestito era macchiato di sangue. A quel punto mi sono svegliata, rabbrividendo. Non mi è piaciuto quel sogno, aveva un significato sinistro. E quando faccio questo genere di sogni, va sempre a finire che si avverano. Oh, spero non voglia dire che arriverà un temporale a rovinare la festa di stasera, mormorò Rilla. Oh, sei proprio una quindicenne incorreggibile, disse la signorina Oliver. No, Rilla, mia Rilla, non credo fosse il presagio di qualcosa di così terribile. Da diversi giorni a Ingolside si respirava un'aria un po' tesa, di cui solo Rilla, tutta presa dal proprio facciarsi alla vita, era rimasta ignara. Il dottor Blythe da un po' di tempo leggeva il giornale con aria molto cupa e parlava poco delle notizie a cui Jem e Walter erano estremamente interessati. Quella sera Jem, al colmo delle citazioni, andò a cercare suo fratello. Ehi! La Germania ha dichiarato guerra alla Francia! Significa che probabilmente anche l'Inghilterra prenderà le armi e se lo farà, beh! Alla fine pare che il pifferaio di quella tua vecchia fantasticheria arriverà davvero! Non era una fantasticheria, rispose lentamente Walter, ma un presentimento, una visione, Jem. Per un attimo, quella sera di tanto tempo fa, l'ho visto veramente! E se l'Inghilterra dovesse davvero entrare in guerra? Beh, dovremmo andare a dare una mano, esclamò allegramente Jem. Non possiamo mica lasciare la grigia madre del Mar del Nord a combattere da sola! Tu però non puoi andare, la febbre tifoidea ti ha messo fuori gioco, che peccato, eh! Walter non disse se lo considerava un peccato oppure no. Rimase in silenzio a scrutare tutta Glenn, fino all'insenatura azzurra del porto sotto di loro. «Noi siamo come i cuccioli che devono difendere la famiglia con gli artigli e con i denti!» Continuò Jem allegro, scompigliandosi i riccioli rossi con la mano grande e abbronzata. «Proprio la mano di un chirurgo», pensava spesso suo padre. «Che avventura sarà! Ma immagino quell'Edward Gray e i suoi prudenti amici quanto la tireranno per le lunghe! Che vergogna! Sarebbe lasciare la Francia in difficoltà! Se invece non lo fanno, beh, ne vedremo delle belle! Ora direi che è il caso di prepararci per la festa al faro!» Jem si allontanò, fischiettando una vecchia canzone scozzese. Walter, invece, rimase fermo dove era per un bel po' con la fronte aggrottata. Era successo tutto all'improvviso, scuro e rapido come una nube che annunciava il temporale. Solo pochi giorni prima nessuno l'avrebbe creduto possibile e anche adesso sembrava un pensiero assurdo. Dovevano trovare il modo di evitarlo. La guerra era qualcosa di infernale, terrificante, orribile, fin troppo terrificante e orribile per accadere nel ventesimo secolo e tra nazioni civili. Solo il pensiero era terribile e Walter soffriva per l'affronto che rappresentava verso la bellezza della vita. Non voleva pensarci, non ci avrebbe pensato. Quanto era bella la vecchia Glenn, in quell'agosto inoltrato, con le sue file di case e pergolati, prati, arati e tranquilli giardini. Il cielo d'occidente sembrava un'enorme perla dorata. Il porto sotto di lui era avvolto dal chiaro di luna nascente e l'aria era piena di suoni meravigliosi. Il cinguettio di pettierossi assonnati, il mormorio magico, dolce e dolente del vento del creposcolo tra gli alberi, il froscio dei pioppi che si scambiavano i loro sussurri argentei scuotendo le loro delicate foglie a forma di cuore, le risate sonore di giovani voci che uscivano dalle finestre delle case in cui le ragazze si stavano preparando per la festa. Il mondo era immerso in una folle bellezza di suoni e colori. Ecco, avrebbe pensato a queste cose e alla gioia profonda e delicata che gli procuravano. In ogni caso, nessuno si aspetta che vada anche io, pensò. Come ha detto Jem, ci ha pensato alla febbre tifoidea.